Buongiorno, è con grande piacere che vi invito tutti a partecipare alla prima Nurse Cup che si terrà qui a Cagliari il 31 maggio in cittadella universitaria. Si tratta di un'iniziativa promossa e sostenuta dall'Università di Cagliari con una forte collaborazione da parte dell'azienda ospedaliera universitaria di Cagliari. In pratica il progetto è costruito in modo da facilitare l'apprendimento degli studenti del terzo anno di infermeristica attraverso una serie di prove pratiche che hanno come spina dorsale e motivo conduttore è quello di una sana competizione tra diversi gruppi che saranno organizzati e coordinati da un coach, da una sorta di allenatore. Si tratta quindi di una competizione sicuramente sana che ha lo scopo di affinare le tecniche sia pratiche sia teoriche degli studenti di infermeristica del terzo anno e si svolgerà in cittadella nelle diverse aule sfruttando prevalentemente le capacità di simulazione che sono già disponibili nei laboratori di simulazione ma con indirizzo specifico alla cardiologia piuttosto che all'emergenza e anche le parti teoriche con la produzione e la discussione di quiz a risposta multipla.